Ayer non si mi prendi tutto eh, stanno facendo che si puoi organizzare eh Si 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 Ora la soli di 4 di mella di rata, si mi faccia la acqua Si non stanno in due punti Ora è che si può passare, hai che si mangiare Si, si Si, si La passiamo a passare lì Guarda, guarda, guarda Guarda oppure L'acqua è l'avanzo Sì, sì, stai seguendo S'è resistente S'è resistente Sì, non è vero Sì, non è vero Sì, non è vero Cosa una cosa? Sì, non è vero E non è vero Sì, non è vero No, no Il barfetto come... come il... ah via, il fuoco tutta l'acqua... Il fuoco tre.